Ieri si è chiusa la finestra invernale di mercato, domani invece cala il sipario sul girone d'andata per le protagoniste del campionato di eccellenza. Niente colpo dell'ultima ora per il Barletta che però precedentemente si era rinforzato in attacco con Francesco Faccini ed è riuscito a blindare i suoi migliori interpreti nonostante l'interesse anche di società di categoria superiore. Biancorossi secondi in classifica a meno 4 dalla capolista Casarano e in serie positiva da 9 turni che andranno a caccia nella trasferta di Vieste della doppia cifra in termini di risultati utili consecutivi, missione tuttavia non semplice sul campo di una squadra che è partita per salvarsi e che ora si ritrova a ridosso della zona playoff. Garganici sin qui mai sconfitti in casa, Barletta di contro che è l'unica realtà di questo raggruppamento che non ha mai perso in trasferta in crocio. Insomma estremamente interessante, abbinamento sulla carta più abbordabile per il Casarano, la prima della classe infatti affronta in campo avverso una vetrana uscita parecchio indebolita dalla sessione invernale del mercato. Tutto da seguire inoltre l'incontro tra il Terlizzi, padrone di casa nell'occasione, e Forti Saltamura. Il Rosso Blu in settimana hanno incassato le dimissioni del presidente Giuseppe De Nicolo. I Murgiani hanno operato con i nesti mirati durante l'ultima sessione di mercato e non hanno mai nascosto propositi ambiziosi, pur essendo una matricola di questo campionato di eccellenza. Abbinamenti esterni nella quindicesima giornata per Colato e Vigortrani. I neroverdi di Vito Castelletti, usciti a quanto pare indeboliti dalla finestra di mercato, sfideranno il Gallipoli. I biancazzurri di Giuseppe Scaringella, senza novità segno inorganico, giocheranno sul campo di un mesane a caccia di punti. In chiave salvezza il Molfetta Calcio con tanti innesti di spessore inaugura la rincorsa al quinto posto, ospitando alle ore 17 l'Otranto, mentre la Molfetta Sportiva si recherà a San Severo per affrontare un alto tavoliere rivoluzionato durante il mercato.